Sono Francesco Tau, questo è il secondo video dei generali francesi di cavalleria, pericodelli perri. Ecco, il primo è Lann, il secondo è Pariol, il terzo è Franceschi Delon. Stesso discorso dei precedenti generali che ho fatto il video, ho un grande impegno per l'oro, per differenziare l'oro metallico da quello diciamo invece cucito sull'uniforme. Cerchiamo di fare un primo piano, ecco qua, bene, è tutto, al prossimo video.